Bentornati in una nuova puntata della soffitta del nerd, siamo qui oggi per parlare con il raffreddore, perché sentirete la mia voce un po' più bassa del solito, del Miu Mini, questa è la versione 2, me l'avete chiesto in tanti, facciamo un video in cui installiamo Onion, che è praticamente il custom firmware creato dalla community, sempre attivissima da questo punto di vista, è veramente un miracolo, che dà nuova linfa a questa microconsole, dandoci alcune funzioni in più e soprattutto dando una pulita a quel sistema operativo che era il sistema operativo originale di Miu, che per alcuni comunque andava più che bene, perché comunque era molto semplice, molto lineare, ma che per altri magari un po' più pretenziosi, che c'avano voglia di cose un po' più complesse, magari era un po' limitante, quindi oggi installeremo Onion, vi faccio vedere come si fa, è molto semplice, però visto che me l'avete chiesto in 2000, e l'avevo detto vabbè facciamo questo video, installiamo Onion, andiamocelo a vedere, prima sigla. Prima di cominciare riguardiamoci un attimo la nostra mini console, che quando vi arriva diciamo nella sua custodietta, che è questa qua, l'abbiamo vista anche nell'unboxing, ha una microSD interna da, nel mio caso, 64GB. Quello che faremo oggi, eccola qua, ve la faccio vedere, quello che faremo oggi è tenerci questa qui da parte, perché comunque non useremo questa microSD per installare il nuovo sistema operativo, perché queste SD sono di bassa qualità, ne useremo un'altra che ho già formattato, e quello che faremo però prima di passare all'installazione è salvarci qualcosina che è qui dentro, perché qui dentro ci sono le BIOS e un sacco di cose già installate, che ci serviranno anche con il nuovo sistema operativo, vi faccio vedere. Bene, la prima cosa da fare, vedete io già ho diciamo preparato la mia nuova SD card, che è questa qui, Miu Mini, con scritto Miu Onion, che sarà il nuovo sistema operativo, l'altra cosa da fare è tenetevi a portata di mano la vecchia SD, perché? Perché qua dentro, comunque, a parte le ROM che vengono già precaricate con il vostro Miu Mini, un'altra cosa che dobbiamo andarci a riprendere dopo saranno le BIOS che nel Miu Mini sono già installate, dove sono? Sono sotto retroarch, andiamo sotto retroarch, di nuovo su retroarch, e poi dovremmo trovarle in system, eccole qua. Queste qua sono tutte le BIOS che dovrete andare a infilare nella cartella BIOS e lo vedremo dopo. Mi pare che PS1 invece, no, ci sono anche quelli di PS1, eccole qua. Quindi qua c'è un po' tutto quello che vi servirà dopo, lo andiamo a rivedere con calma, però quello che dobbiamo fare adesso è andare a installare il nostro Onion. Come si fa? Andiamo prima a vederci dove si scarica il nostro Onion OS. È un sistema operativo freeware, cioè comunque free, che viene fornito, anzi open source, scusate, viene fornito dalla community. Come reference io utilizzerò tutto quel tempo questo Retro Game Corpse. Vi lascio il link in descrizione, secondo me ha fatto un lavorone, quindi è inutile rifare, cioè non è che metta a riscrivere tutto un post incredibile che ha già fatto lui. Quindi quello che farò io semplicemente è guidarvi attraverso l'installazione, seguendo però le indicazioni di Retro Game Corpse, che comunque fa un lavorone. Se non lo conoscete seguitelo sia su YouTube che altrove perché veramente sta sempre sul pezzo. Peraltro qua ci consiglia quelle che potrebbero essere delle SD da utilizzare. Io ne utilizzerò una da 64GB, ma si può arrivare fino a 128GB. Ricordatevi che il Mew riesce a gestire Siga CD, ma riesce a gestire anche PS1. Quelli saranno i giochi che occuperanno più spazio in assoluto. Cosa bisogna fare? Dobbiamo andarci a prendere il nostro buon firmware. Dove si trova? Allora, innanzitutto, se voi l'avete già installato potete fare l'update. Vedete qua c'è scritto update aprile 2022, che è il firmware che dovete avere già installato sulla vostra console originale. Attenzione, quello originale. Come si fa? Si va a vedere in settings. Bisogna andare a vedere su device e version number. Diciamo che deve avere questo numero qua. Non so se riuscite a vedere. Questi sono i numeri che devono avere il vostro Mew Mini per supportare Onion OS. Quello che faremo adesso è andarci a vedere se il mio già supporta questo tipo di firmware e che quindi posso procedere con l'installazione. Per farlo dobbiamo andare su sistema e vedere cosa abbiamo installato all'interno della nostra microconsole. Vediamo dov'è. Settings. Poi qui che abbiamo Maps Team, Ibronet Factory, Device Info. Ok, la nostra versione è questa qua, che è 22.419.828, dovrebbe essere quella di aprile. Andiamo a rivederci un attimo cosa diceva il nostro... Eccola qua, 22.04... Sì, è lei, 828. Perfetto. La prima cosa da fare dunque è andarci a prendere il nostro Onion OS. Come si fa? Bisogna andare sulla pagina. Questa è la pagina dell'ultima release. Vediamo dov'è. Pepepepepepe... Eccola qua. V404, the latest. Andiamo a fare il download. Dentro a Mew abbiamo la nostra Onion. La andiamo ad estrarre. La estraiamo qua perché tanto comunque... Si tratta di file. Eccoli qua. Questo possiamo anche cancellarlo. Quello che bisogna fare adesso... È andare a mettere queste cartelle qua... Dentro la nostra SD card. Vi faccio vedere come si fa. Bisogna prenderle. Fare copia. Uscire da qua. Andare sulla nostra SD che abbiamo deciso di essere quella di Onion. Andare a fare incolla. In questo modo noi andremo a mettere tutte le nostre cartelle qua dentro. Non ci vuole tanto. Comunque come vedete va a 17 MB al secondo. Abbastanza lento. Una volta copiate abbiamo tutte le nostre cose al punto giusto. Prima di andare a mettere le BIOS installiamo... Torniamo sulla nostra console e cominciamo a fare l'installazione dei vari core di cui abbiamo bisogno. Andiamo a mettere la nostra SD card in cui abbiamo covia incollato diciamo quello che ci serviva e vediamo che cosa succede. Come vedete appena andate ad accendere la vostra console quello che succede è che Onion comincia subito a fare il suo lavoro. Sta installando il custom firmware. Mentre installa peraltro vi dà anche delle future. Come vedete io sto muovendo il joystick e mi dice tutto quello che si può fare con questo sistema operativo. Come avete visto non c'è veramente bisogno di nulla per farlo. È veramente veramente semplice. Si tratta proprio di un trascinamento di file da una cartella all'altra. Niente di più semplice. Ora vi farò vedere come invece all'interno poi dell'installazione possiamo scegliere cosa installare. Quindi senza installare tutta una serie di console di cui magari non ce ne frega niente. Ma installiamo solo quelle che ci interessano. Ok siamo arrivati alla fine. Adesso non ci vuole moltissimo. A questo punto noi abbiamo di nuovo delle piccole informazioni che ci danno rispetto a quello che possiamo fare. C'è una sezione Games, una sezione Expert dove i più esperti potranno smanettare e una sezione Apps. Qua ci viene ricordato quello che è il layout dei comandi. Come vedete sono abbastanza perfetto per fare quello che volete. Addirittura si chiama un toggle per gli FPS quindi possiamo aumentare la velocità del gioco. Questo naturalmente può essere un plus. Ad esempio se stiamo giocando un gioco un RPG in cui magari i rispostamenti sono un po' lenti. In questo modo potete aumentare la velocità del gioco. Poi c'è il Fast Forward e il Rewind che sono una classica cosa. Allo Stay, Save Stay. Insomma tutto quello che solitamente c'è in un sistema operativo per retro gaming. Grazie di tutto. Arrivederci e grazie. Qua potete scegliere le varie console o i vari sistemi che volete installare. Adesso io ne installerò un po'. Qui abbiamo SNS, Wonderswan. Insomma io alcuni li sto installando. GPS lo installiamo. Coleco forse no. Amica è un po' complessa da giocare qua sopra. Il Vectrex, vabbè, non so perché. L'Intell Vision. Come vedete c'è una scelta molto più ampia rispetto a quella che c'era sul sistema operativo originale. Addirittura c'è il Famicom Disk System, Game & Watch, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, NES, SNES. Poi abbiamo il Super Game Boy, addirittura il Virtual Boy. Poi lo installo ragazzi. Poi abbiamo Philips Video Pack, Port Collection, Coom, Neo Geo, Neo Geo CD, Neo Geo Pocket Color, il Siga 32X, il Siga CD direi che ce lo mettiamo. Game Gear, perché no? Il Genesis assolutamente sì. Il Master System sì. L'SG1000, il Sinclair. E abbiamo anche la nostra Sony PlayStation. C'è anche il Vatara Super Vision, incredibile. E a questo punto noi possiamo premere Start, credo. E come vedete procede all'installazione dei vari Core. L'installazione è completa. Premi A per spegnere. Bisogna infatti fare Shutting Down. Quello che facciamo adesso è andare a mettere le BIOS nella cartella BIOS perché di default non ci sono. Chiaramente Canon OS non vi fornisce questo tipo di cose. Però quello che possiamo fare è prenderle appunto dalla nostra SD originale che era all'interno del MIU, che è questa qua. Come vedete io l'ho sostituita con questa che è leggermente meglio. E ora faremo il passaggio dei file. Bene, ora abbiamo le nostre due cartelle. Una è la vecchia cartella che è questa che vedete qua. Al cui interno ci sono le BIOS di cui abbiamo bisogno. Vi ho fatto già vedere dove si trovano. Le andiamo a riprendere. Eccole qua. Diciamo che tutto quello che è qui dentro potete fare così. Selezionate tutto e andate a ficcarlo invece in quest'altra cartella. Nella cartella però BIOS. Andiamo a trascinare tutto all'interno. A questo punto vi chiederà di sovrascrivere i file rimanenti. Fate sì e il gioco è fatto. Bene, abbiamo inserito la nostra BIOS. A questo punto quello che potremmo fare è inserire qualche gioco così andiamo a vedere le differenze che ci sono poi realmente tra questo sistema operativo più moderno, più funzionale che è quello di Onions. Andiamo a rimettere per l'ennesima volta questi passaggi, ma come avete visto sono molto semplici. La nostra SD dopo aver caricato i nostri giochi. A questo punto quando andiamo a accenderla. Peraltro questo qua è un logo che si può cambiare. C'è un modo, l'ho visto sulla guida di cui vi ho parlato prima. Eccolo qua, siamo su Onion OS. C'è un loading. Ed eccoci qua. Come vedete c'è un menu che può essere peraltro cambiato, se volete ve lo faccio vedere. Dovrebbe essere qua, oltre a tutta una serie di informazioni che abbiamo. Qui abbiamo un display che possiamo andare a cambiare. Ok, mi ha salvato subito le cose. La cosa figa è che salva tutto immediatamente, anche sui giochi. Ah, ecco, nelle app. Nelle app abbiamo tutto ciò che abbiamo visto già prima. Per esempio il package manager è quello che ci permette di installare altre cose. Cioè nel caso ci siamo scordati di installare un'altra console o qualcosa, possiamo andare a farlo senza problemi. I tweaks sono dei system tweaks, non so, non l'ho ancora visti. Lì abbiamo button shortcut, user interface. Addirittura possiamo andare a lavorarci gli emulatori e quindi andare un po' a aggiustare quelle che sono le prestazioni dei nostri emulatori. Possiamo cercare un gioco nella library attraverso il search. Possiamo andare a aggiustare quelle che sono i settings di retroarch. C'è la quick guide, l'abbiamo già vista prima. Un activity tracker che ci dice un po' quelle che sono le nostre ore di gioco e su quali giochi. E i temi che, come dicevo, sono già preinstallati. Ce ne sono alcuni molto carini, come vedete. Sono una ventina qui, ma sul sito c'è un sito dove si possono installare altri temi. Quindi è possibile veramente personalizzare. Guardate, questo sembra appunto PlayStation. Ve le faccio vedere alcuni altri. Sono molto carini. Cioè, comunque personalizzano molto. Questo è addirittura il Nintendo Switch. Personalizzano molto quella che è l'esperienza con questo Miu Mini. Che diventa molto, molto più interessante rispetto al Basic. Io andrò a mettermi quella di... Mi piaceva anche quella con Pac-Man, ma credo che mi butterò... Mi butto su questa. Non so perché mi piace. La possiamo installare. Ed eccoci qua. Abbiamo praticamente una vecchia UI di un vecchio computer. Una volta fatto ripartire, come vedete, peraltro mantiene il suo tema anche nella home. Cioè nella parte iniziale, quando fa il boot. Come vedete c'è già una novità, che è questo Game Switcher. Ve lo faccio vedere perché secondo me merita. Allora, da Apps voi potete andare su Twix e andare a... Allora, innanzitutto la prima cosa che vi consiglio di fare è togliere Autoresume Last Game. Perché alcuni core, come ad esempio Arcade, si comportano un po'... Fanno un po' delle cose strane. Quindi il problema poi è che magari rimanete incastrati all'interno del gioco. La cosa che vi dico di inserire subito è il Game Switcher. Che secondo me è interessante, è quello che avete visto poco fa. Praticamente, cosa fa questo Game Switcher? Ve lo faccio vedere. Quando siamo dentro a un gioco, adesso aprirò un gioco del Game Boy, ad esempio. Eccolo qua. Quando siamo all'interno di un gioco, possiamo con un solo click di questo pulsante qua, uscire dal gioco che viene salvato e passare alla visualizzazione Game Switcher. Che vuol dire che Game Switcher vi mantiene i salvataggi di tutti i giochi che stavate giocando in precedenza. Che vuol dire che voi volendo potete passare e stare giocando al Game Boy, però dicendo Aspetta, fammi tornare a Crash Bandicoot. Andate su Crash Bandicoot, premete OK. E riprendete esattamente dal punto che stavate guardando un secondo fa. E se volete riuscire, potete farlo premendo di nuovo il pulsante e tornare al vostro bel Game Boy. Ecco, secondo me questa è l'opzione più figa che ha questo Mew Mini con Onion. Chiaramente ci sono tutta un'altra serie di cose che se volete potete andarvi a vedere vi linko sotto tutte quelle che sono le funzioni aggiornate. Ma questa secondo me già da sola è un qualcosa che rende tutto molto più interessante e più godibile da un certo punto di vista. Potete uscire dalla visualizzazione, come avete visto, andando semplicemente a premere il pulsante di uscita. Con i CPS prima mi dà qualche problema. Vediamo se ancora me lo dà, ma forse non me lo dà più. Da qui potete naturalmente giocare ai vostri arcade. Occhio alle ROM perché alcune ROM non funzionano. Ad esempio, ne ho già mi dà qualche problema. Bisogna cercare un pack di ROM specifico. Anche qua trovate il link in descrizione. Io come al solito non sto guardando lo schermo, sto guardando quello che è sopra. Però voglio vedere se anche qua funziona. Vediamo. Sono morto, peraltro. Sì, come vedete, Game Switcher funziona anche con i CPS. Io posso passare a un altro gioco e in questo modo continuare con il gioco del Game Boy. È una bomba sta roba perché secondo me rende più godibile quello che è molto un casual gaming. Quello delle console o comunque dei giochi arcade. Perché comunque magari stai giocando, volete prendere l'autobus, prendete l'autobus. Prendete così. Poi andate a spegnere se volete. Anche quando andate a spegnere vi fa l'autosave automatico. Poi volete riprendere. Però non volete più giocare a 1941. Volete giocare un altro gioco che stavate giocando prima. È tutto molto, molto immediato. Come vedete non ci vuole niente. Questa roba qua, se ci fosse su tutte le console, sarebbe game changing. Comunque, avete visto quanto è semplice installare questo Onions OS. Ci sono un sacco di altre cose che dovreste andarvi a vedere. Ma vi linko sotto in descrizione quali sono tutte le future. L'unica attenzione che vi do è quella di rivedere un po' quelle che sono le vostre ROM. Perché io, passando dal MIUI originale a questa, alcune ROM non partivano. Comunque mi davano dei problemi. Alcune vanno anzippate. Insomma, ci sono alcune cosette che dovete aggiustarvi. Però, di base, è molto, molto semplice. E soprattutto cambia in maniera radicale quelle che sono... L'utilizzo che si può fare di questa microconsole. Che, come vedete, ha potenzialità infinite. Purtroppo non si trova più. Perché, me lo dite anche voi, perché io l'ho presa così, random. Ma l'ho pagata 70€, leggermente di più di quello che è il suo prezzo. Ma, comunque, accettabile, presa su Aliexpress. Ma, ormai, non si trova più. Perché MIUI ha dichiarato che non ne produrrà più. Comunque, è molto difficile ne produrrà altre perché gli mancano i pezzi. E quindi, ha cambiato modello e ne ha fatto uno un po' più grande. Che assomiglia un po' a questo RG35XX. Sarà una versione molto simile. Io non ce l'ho in questo momento. Ma, l'ho visto online. Praticamente, è una versione esplosa del MIUI Mini. Quindi, sarà un MIUI normale. Cioè, potranno anche togliere il Mini e fare normale. Comunque, questa era la spiegazione di come si installa Onion sul vostro MIUI Mini. Versione 2, nel mio caso. Ma, esiste anche una versione 1 e una versione 3 che però non ho mai visto. È molto semplice. Però, se avete domande, potete scrivermi nei commenti. Io vi linko in descrizione tutto quello che vi serve. Che è, comunque, una pagina che è, vi ripeto, quella di... Retro Game Corps, che secondo me è la cosa più precisa che sta la scritta riguardo a MIUI Mini. Ma non solo, perché Retro Game Corps lavora con tutte le microconsole. Quindi, andatevi a vedere il suo sito. È molto interessante. Ci sono un sacco di guide. Ci sono anche i suoi video su YouTube che spiegano passo passo. Io l'ho fatto in italiano perché mi era stato chiesto di farlo in italiano. Quindi, sono contento di aver accontentato quelle che sono le richieste che mi fate attraverso i commenti. Spero di avervi aiutato. Se avete, comunque, dei problemi, scrivetemi. Perché, comunque, è molto semplice. Ma, qualche volta può succedere qualche casino. Quindi, non preoccupatevi. Scrivetemi nei commenti. Fate le vostre domande. Se ci riuscirò, vi risponderò. E cercherò di aiutarvi in ogni modo. Grazie per essere stati qui con me. Questa è la soffitta del nerd. Noi ci vediamo la prossima volta. Spero senza raffreddore. Perché, comunque, sembro tipo bababababà. Così parlo. Ciao. Ciao.